Per ti molti, io comincerei con una panoramica usando i dati di Frontex che risalgono a fine settembre che sono tutti ovviamente in questi 50 giorni peggiorati. Il rapporto trimestrale di Frontex a fine settembre fotografava un aumento quasi dappertutto di flussi illegali verso l'Europa con due aree assolutamente emergenziali in questo senso. Uno erano i Balcani occidentali e l'altro è il Mediterraneo centrale cioè quelle rotte che dalla Tunisia, in particolare dalla Tunisia e dalla Libia ma anche dall'Algeria puntano sulle coste italiane. Con un aumento che l'anno scorso non c'era stato invece anche sulla rotta del Mediterraneo occidentale, quella diretta verso la Spagna che riguarda soprattutto marocchini e algerini e un aumento fortissimo della rotta dell'Atlantico quella che dalle coste dell'Africa occidentale punta le Canarie. Aumento percentuale fortissimo poi i numeri sono ovviamente non a livello di quelli italiani. Oggi siamo proprio oggi credo stiamo arrivando a 60.000 sbarcati dall'inizio dell'anno. A fine settembre erano 47.600 quindi in 50 giorni abbiamo già avuto un flusso in più importante e potrebbe autorizzarci a stimare entro la fine dell'anno l'arrivo di 70.000 persone. C'è una rotta nuova che riguarda l'Italia che è strettamente legata a quello che sta accadendo invece nel Mediterraneo orientale. Per intenderci le isole greche, il confine greco-turco dove c'è un muro, confine terrestre c'è un muro, un vero muro, e in quest'area i flussi sono calati ulteriormente del 17%. Già erano calati moltissimo l'anno scorso. E quello che possiamo fare tanti ragionamenti politici, di sicurezza, ma il dato fondamentale è che la Grecia ha cominciato a fare i respingimenti. Cioè le barche che già dall'anno scorso, le barche che arrivano dalle coste turche, che spesso sono molto vicine, perché se prendiamo isole come Lesbo, come Chios, sono molto vicine, vengono nella maggior parte dei casi fermate e rimbortate nelle acque turche dove i turchi se ne occupano. E questo ha determinato l'incremento di una rotta che c'era già verso l'Italia, anche se era minima, che è quella che dalla Turchia punta direttamente alle coste ioniche, Calabria e in parte anche Puglia. Siamo a oltre 120 imbarcazioni arrivate quest'anno da quella rotta. Quindi una rotta piuttosto lunga, che prevede di salpare dalle coste turche per raggiungere le coste ioniche italiane. Quindi si fa con imbarcazioni abbastanza grandi, generalmente vecchi velieri a uso turistico e con equipaggi che spesso vengono reclutati tra la malavita ex-sovietica, in particolare Ucraina o comunque di quelle repubbliche che orbitano nell'area del Mar Nero. Quindi in stretta connessione con la malavita turca che io credo, mi sento sicuro nel dire che non potrebbe gestire traffici così ampi e così consueti, quotidiani, se non ci fosse almeno un occhio chiuso da parte delle autorità. Tenuto conto che la Guardia Costiera Turca ha una flotta di oltre 120 imbarcazioni che è perfettamente in grado di controllare quelle coste. E poi c'è questo nuovo fronte, di quello di cui hai accennato tu, che è quello della frontiera est. L'idea che adesso vi cito solo alcune dichiarazioni che sono a mio parere interessanti rispetto a questo nuovo fronte. Il portavoce del Ministero dell'Interno tedesco si è chiesto se la Polonia o la Germania potessero gestire da sole questo tipo di flussi. E a oggi da quella frontiera sono passate poco più di 23.000 persone, non le 60.000 che sono passate invece, che sono sbarcate in Italia. Il regime bielorusso agisce come un trafficante di esseri umani, ha detto il portavoce della Presidenza e della Cancellerato tedesco. L'uso dei migranti è diventato uno strumento, diciamo gentilmente, di politica estera, ha detto il nostro Presidente del Consiglio Draghi con un eufamismo ovviamente. È chiaro che ciò a cui ci troviamo di fronte qui è una prova di terrorismo di Stato e lo ha detto in conferenza stampa l'8 novembre il primo ministro polacco Moravieschi. Insomma ci sono dichiarazioni che riprendono la tua provocazione, che poi non è una provocazione, sono le dichiarazioni ufficiali. Anche la Nato, la UE parlano di guerra ibrida, di azione. Allora siamo di fronte improvvisamente a un uso dei migranti come arma. Beh improvvisamente no, perché sono tutte cose che noi dovremmo già conoscere bene, perché ci sono sempre state. Nel 2010 venne pubblicato un libro che io credo sia ancora oggi una pietra miliare, dovrebbe essere eletto da chiunque si occupi di questi temi, che è Armi di immigrazione di massa di una professoressa americana, Kelly Greenehill, e venne tradotto e venne pubblicato anche in Italia nel 2018, mi pare. In questo libro vengono esaminati una cinquantina di casi a partire dal, dopo il 45, quindi dal dopoguerra, in cui paesi generalmente meno potenti, meno ricchi, hanno utilizzato flussi migratori per esercitare una pressione su paesi più forti, militarmente, economicamente più strutturati e più ricchi. Quindi parlare di ricatto dei migranti e dell'uso di masse umane non è una novità. Noi italiani l'abbiamo visto già quando Gheddafi, nei primi anni 2000, cominciava a mandarci piccoli flussi di migranti illegali per forzarci a raggiungere poi con Tripoli quell'accordo che firmamo nel 2009 di amicizia in cui c'era un investimento importante italiano. Abbiamo sicuramente vissuto queste situazioni per molto tempo. Pensiamo ai governi tunisini, che ogni tanto hanno, oltre a svuotare le carceri con le amnistie, ci hanno mandato flussi importanti anche quest'anno, sono 14 mila e passa ai tunisini sbarcati a oggi. Ovviamente poi chiedendo e ottenendo spesso in cambio, giustamente, anche dei ritorni economici, aiuti finanziari, motovedette, strumenti di sorveglianza. La stessa Algeria e il Marocco lo stanno facendo con la Spagna, ma all'Algeria c'è un traffico che dall'Algeria punta direttamente alla Sardegna. Quindi in realtà si è scoperta l'acqua calda. Che cos'è cambiato rispetto a quello che abbiamo visto finora? Che questa volta questo nuovo fronte riguarda l'East Flank, riguarda quel fianco orientale che già è caldo dal 2014, dalla crisi ucraina che vede la nuova guerra fredda fra la Nato e la Russia, in cui è coinvolta anche, non sempre con entusiasmo, l'Unione Europea. Gran parte dei membri della U.S. sono anche membri della Nato. E quindi tutta la questione, diciamo, l'approccio geopolitico a quella crisi, con toni quasi militareschi, c'è un dato interessante, la Gran Bretagna ha mandato un mini contingente in aiuto ai polacchi, dieci militari del genio, per aiutarli a costruire il muro. La Gran Bretagna mandò anche delle navi con l'operazione Sofia per aiutare l'Italia a gestire negli anni scorsi i flussi migratori. Ma quelle navi, come le altre navi di tutti i paesi che partecipano a quell'operazione, raccoglievano i migranti illegali per sbarcarli in Italia. Quindi c'è un approccio anche strategico, una visione strategica diversa che credo sia legata direttamente al fatto che è un'area diversa dove entrano in campo anche valutazioni come quelle del confronto con la Bielorussia e, come qualcuno vorrebbe, anche con una Russia che sta in quell'area ha molti fronti aperti nei confronti dell'Occidente, anche con l'Ucraina. Uno non se ne parla mai ma gli ucraini stanno rafforzando molto la frontiera con la Bielorussia perché temono che anche lì possono esserci dei flussi. Ma l'aspetto più paradossale, per completare il ragionamento sulle tue valutazioni, Guglielmo, è che noi un paese, una nazione che ha utilizzato e utilizza i migranti come arma di pressione economica, politica e strategica, dovremmo riconoscerlo subito nel nostro alleato dentro la Nato turco. Perché se noi guardiamo la mappa dei che ci indica Frontex, di tutti i fronti aperti, forse quello delle Canarie lo escludiamo dalle responsabilità turche, anche quello che punta sulla penisola iberica dal Marocco e dall'Algeria, ma tutti gli altri hanno un evidente coinvolgimento turco, che non è per forza sempre un aspetto negativo. Noi oggi sappiamo che in Libia la guardia costiera libica viene addestrata e supportata in modo importante dalla Marina turca. E devo dire che se i migranti sbarcati in Italia quest'anno non sono 20-30 mila in più, lo dobbiamo proprio la guardia costiera libica, che continua a fermarli e a riportarli indietro. Con un'interlocuzione con i libici che a volte è un po' paradossale, un po' come il paradosso che facevi tu prima, con i libici che dicono che non abbiamo capito bene voi italiani che cosa volete, perché se li fermiamo noi e li riportiamo indietro, li portiamo nei lager. Se non li fermiamo e arrivano da voi, voi comunque ci fornite denaro, aiuto, molto vedetta, perché noi li fermiamo. Quindi in Libia c'è un po' di incertezza rispetto alle determinazioni italiane, però le altre rotte, come ad esempio quella verso la Grecia ovviamente, ma anche quella sui Balcani occidentali, quindi quel flusso che attraversa la penisola balcanica e che ebbe il suo apice come flussi migratori illegali nel 2015-2016 con gli arrivi in massa anche in Germania, beh tutto quello che vedono come punto di partenza la Turchia, che a sua volta è un paese che raccoglie immigrazione illegale, hanno costruito un muro anche loro al confine con l'Iran per fermare più che gli iraniani gli afghani. Parlando di muri, 13 paesi europei, nazioni europee dell'Unione Europea hanno chiesto alla UE recentemente di finanziare la costruzione di muri, tra questi non c'è l'Italia, ma questo da 13 su 27 comincia essere un numero, anche se non sono i paesi più importanti, non c'è la Francia, non c'è la Germania, ma ci sono tutti quei paesi che dai confini orientali, meridionali, alcuni come Cipro ad esempio, e dalla Mitteleuropa temono flussi in arrivo dall'est, dal Mediterraneo orientale e dalla rotta balcanica. L'Europa, voi sapete bene, ha scelto di non finanziare questa costruzione di muri, ma di non censurare la costruzione di questi muri. Ricordo, perché credo sia importante oggi farlo, due aspetti e poi mi avvio alla conclusione. Il primo è che nel 2015-2016, quando ci furono i massicci flussi lungo la rotta balcanica, cominciarono a fiorire i muri, il muro ungherese, il muro serbo. Una delle lezioni che apprese, come dicono i militari, da quell'esperienza fu proprio questa, che l'assenza di muri esterni a difesa dell'Europa da questi flussi massicci, che oggi vengono tranquillamente paragonati a un'arma ibrida, quindi a un attacco militare, diciamo così, l'assenza di questi muri obbliga i paesi membri a creare muri interni nei confini che ci sono fra i paesi della UE, quindi con grosse difficoltà poi a mantenere il trattato di Schengen. Quindi l'esperienza che abbiamo avuto cinque anni fa, quattro, cinque anni qua, dovrebbe insegnarci come europei che l'assenza di una difesa dei muri esterni obbliga poi, crea spaccature profonde, politiche, sociali, dentro ai paesi dell'Unione, dove alcuni non hanno nessuna difficoltà a erigere muri. Dicevo prima, rispetto alla Turchia, oggi sulla Turchia noi possiamo chiaramente vedere una responsabilità turca su questi flussi. Non a caso la Turchia incassò dalla Germania, non un'accusa di attacco ibrido, ma incassò 6 miliardi di euro che poi abbiamo pagato tutti noi europei, i tedeschi li hanno negoziati e noi europei li abbiamo pagati. È evidente oggi che la Turchia punta ad alzare il prezzo per vedere rinnovato questo tipo di accordo. L'hanno fatto con cifre minori anche il Marocco, l'ha fatto anche il Marocco con la Spagna qualche mese fa, di chiedere aiuti che diventano aiuti economici. Il problema forse è, e se ne parla spesso, l'Europa è assente come attore nella gestione di questi rapporti con i paesi da dove provengono, non di origine, ma da dove salpano i flussi migratori, sicuramente questa assenza dell'Europa obbliga o dovrebbe obbligare i paesi, le singole nazioni a gestire direttamente i rapporti o gli accordi con questi paesi. È ovvio che la massa di manovra, il peso che può avere l'Unione Europea che si muove nelle trattative in maniera compatta e unita, è un peso diverso da quello che può avere una singola nazione europea. Anche una importante nazione europea, basti vedere le rappresaglie che sono state fatte, commerciali, economiche, diplomatiche, politiche, nei confronti della Francia, che è la più grande potenza militare e la seconda potenza economica europea, quando la Francia ha annunciato che se non verrà accettato il rimpatrio dei migranti illegali provenienti dal Maghreb, non verranno più accettati migranti illegali da quegli stessi paesi. Abbiamo visto reazioni pesanti in Tunisia, ma soprattutto in Algeria e Marocco. L'idea che ci sia uno legame fra flussi migratori illegali e geopolitica, cioè che i criminali che gestiscono questi flussi abbiano una consapevolezza anche delle vicende politiche che accadono in Europa, quella noi l'abbiamo potuta vedere e toccare con mano già in molte occasioni. Prima tu facevi riferimento al periodo in cui Matteo Salvini era Ministro dell'Interno. Nel momento in cui ad agosto inizia la crisi di quel governo erano arrivati pochi più di 3.000 persone da gennaio. Nel mese di crisi di governo ne arrivano più di 1.000 e arriviamo a 4.000. Nei mesi successivi, ottobre, novembre e dicembre, ne arrivano altri 8.000. Quindi dei 12.000 arrivi circa 11.900. Dell'intero 2019 solo 3.000 erano arrivati e ci sono anche quelli che erano a bordo delle navi dell'ONG nel periodo in cui al Ministro dell'Interno c'era una posizione e in quel governo c'era una posizione ferma sulla questione dei migranti. Quindi attenzione perché pensare che i trafficanti siano semplicemente persone che mettono su una barca dei migranti illegali per intascare? Sì, certo lo fanno, ma dietro ci sono strutture che sono intanto legate a organizzazioni molto più importanti, che hanno anche spesso, molti report dell'intelligence ce l'hanno confermato, che sono anche organizzazioni che finanziano il terrorismo islamico in diverse ere del mondo. Ma al di là di questo ci sono valutazioni politiche che sono legate anche finanziarie ma anche politiche che guardano con molta attenzione a qual è il ventre molle dell'Europa. Quando la Grecia comincia a fare respingimenti, a chiudere, i trafficanti fanno fatica a vendere il biglietto perché non riescono più a garantire al passeggero la certezza di arrivare nel territorio europeo e allora i flussi si concentrano dove il ventre dell'Europa è più molle e solitamente questo è quello, è italiano. Per ora mi fermo qui. Grazie Gian.